Allora ragazzi siamo su scribble.io che è da tantissimo tempo che non lo portiamo Si esatto E poi Gabri inizia con il suo si esatto Oggi nei video Gabri potresti per favore evitare di dire sempre si esatto Magari potrebbe essere Va bene non lo dico più cerco di non dirlo Ecco allora usa però altre frasi E poi c'è anche nonno dall'altra parte del round Ma salve E poi c'è anche Sasso Frasso che non parla però ciao Sasso E ciao Aspre no faccio la voce di Sasso Ciao Ok perfetto faccio la voce di Sasso Uguale 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 identica Allora Perché è una penna sulla scrivania Che schifo Allora vediamo Ma scusa cosa è che staresti disegnando tu brutto schifoso Allora questa cosa non è giusta Potete indovinare perché chiaramente Come sto disegnando Allora io sono scioccato da Gabri E poi tranquilli che Ho preso spunto dalla skin di Minecraft Ho visto ma è un po' bruttina Eh non so Ma poi siamo un po' in pochi Cioè se posso dire È un pochino troppo in pochi Vabbè però Vabbè continueremo Cioè nel senso È un po' tristi comunque Perché in confronto È un po' sì però Ah beh Tutti morti Comunque posso dire che non ho un audio proprio DM No C'è proprio schifoso Ma per me È un po' Il mio audio è bellissimo Sì comunque Siamo un po' scontati Nel senso Vabbè dai Non indovino Perché facciamo che indoviniamo a 100 circa Esatto è vero A 100 100 secondi circa Quindi dobbiamo essere Il disegno Però secondo me è già finito Vabbè sì esatto Facciamo a 120 No 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 Fai che continui Perché deve essere così Cosa stai disegnando Ti sembra una cosa inerente Quella forse Da tutti Ma vai a quel paese Mamma mia Ti direi tante cose Vabbè Non ho più voglia Quindi forza Forza disegniamo Ma non va Così a tradimento Assolutamente sì Vabbè scusa Eri tu quello che disegnava No? Non rompere le palle Nonnino Nonnino scusing Ah no no Non eri tu Eh sì No era Sasso Che disegnava Ah ecco Vabbè Ciao tizio Cosa sta disegnando Adesso vediamo Allora Oddio ho paura Giudicate le mie Doti artistiche Che sono molto Molto belle Ma no ma Sei tranquillo Nonnino Non ti devi proprio preoccupare Qua siamo tutti quanti artisti Molto bravi Dopotutto Cosa sta disegnando Oh ma No come si fa Non so Sare Scribo io No Oh ma No Aiuto Cosa sta succedendo ragazzi Un po' Un po' Ecco Non dico Non dico Sì un po' Si Allora Bello il fatto che ci stai Prova Ma scusa Questo dovrebbe essere chi Esattamente Oddio ho paura Ma non lo so Cioè è una persona sicuro Io Io provo ad indovinare Però Vabbè Proviamo No non è Gabri Perfetto Io anche pensavo Eh infatti I capelli Ma chi è Eh infatti Non sarà mica Duny No eh Non mi viene Cos'è Nonno ma cosa stai disegnando Un po' Proibito Aspetta Non faccio Una freccia Altrimenti dopo Sono troppo maliziosi Madonna Non ci posso credere Ma adesso Cioè si sta prendendo in giro Non è Ho capito Ho capito Cos'era Nonno quella roba È bellissimo Allora Io ora Disegno una cosa Molto importante Che voi dovete capire Altrimenti Duny si arrabbia Ovviamente usate i colori Per disegnare Mi sono scordato di dire questa cosa Ma è molto importante Va bene va bene Allora questo è un bellissimo Telefono di colore azzurro Ok E qua praticamente Adesso io faccio una cosa Di questo tipo No scherzavo Devo fare una cosa Di questo tipo Tutto quanto nero Ok Però Però tranquilli Che adesso Duny si riprende Allora praticamente Qua c'è La cosa Questo è un video No avete capito Capite i colori L'importante è capire i colori Ok Ok Allora Praticamente Molto simile ad una cosa Oddio come faccio Molto Perché non posso andare in dizzi Capito Posso indovinare Vai Indovina Prova 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 Però Entro domani mattina Però Non è È simile Però è simile È una nuova funzionalità Di una Ho capito Ho capito No allora non so Io non so le cose Che tipo mi butto come non sai Come non sai Nonno Nonno Non lo segui youtube Esatto Lo mangio ogni giorno Cioè Appunto Ancora peggio Che non Che non Io veramente sono sciocco Basito da nonno Che cos'è È una funzione È una funzione Esatto Si chiama video brevi Ma c'è anche un altro nome Più Marchettoso Forza Aspetta Forza Forza Ma solo io Ho indovinato Non so Short video Ma cavolo ne so Shorts Shorts Era short Ma dai Ma avevo scritto short Ma raga è impazzito comunque Cioè Tipo È impazzito Adesso spacca tutto No che fa schifo scrivere io Avevo scritto short Uguale Con una S In più o in meno Ma che parola è questa Scusa Gabri Che non sto capendo No 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 Allora Non puoi dire Cioè nel senso Devi descrivere ciò che stai facendo Eh non so Cosa potrei dire Questo qua è un simbolo Ok è un simbolo Del vietato Giusto Oh Esatto Sì 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 Ma sei sveglio per favore Sì 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 Svegliissimo Allora ok Perfetto Quindi questo è un simbolo del vietato Cosa dovrebbe rappresentare questa roba No aspetta No no La parola Mi sa che mi si è inceppato tutto È vietato ma ci sono due parole Non ho capito No no è una parola sola Ma poi il bello che io Allora io qua Vediamo un attimo Vediamo un attimo Perché io sto cercando di Ah ma dai Gabri Cioè così ti è venuto da rappresentare Questa cosa ma la capirà Ops Sì ho più punti Sì No io sono scioccato Comunque Perché io avevo messo i puntini Nelle parole Ma non me li ha contati comunque Vabbè Allora io comunque Stavo per dire Non la divinerai nessuno Invece Ah io pensavo che Esatto Vabbè Dai chi è che sta disegnando Sta disegnando Sassofrasso Allora noi Dobbiamo cercare di capire Che cosa sta disegnando Dovrebbe essere una mucca finora Forse questa Cos'è Una mucca Azzurra Con le zampe blu Sì esatto Naturalmente Dunis Ah Come ti permette Ho capito Ho capito anch'io Però possiamo indovinare Solamente a Gabri Eeeh Niente ho detto Vabbè Indoviniamo La G non è La G non è nera No ma infatti La G è nera Dai forza però Sasso Vabbè Vabbè Dai Mi hanno finito Forza Io con la Y Aiuto Con la Y Con la Y Ehi ehi Scusate un attimo Stiamo facendo una sorta di Non lo so Eh esatto Notate Di brucia le streghe a rogo Cioè state scherzando Cioè tutti quanti che Sono lì fogati Che stanno cercando di Io sto cercando di capire Adesso in questo momento Che cosa dovrebbe Allora Boo Che non No come boo Non Beh Nonno Allora Oddio cos'è Due parole Scusate Mi potete Allora Gabri Se pari addosso a nonno Dopo non si capisce più niente Perché lui È il suo turno di parlare Che mi perdona Ok È easy Cioè ma Lasciamo stare In effetti sì In effetti sì Sei stato molto bravo Possiamo indovinare Ah dai facciamo A 125 Fra poco eh Fra poco Tenetevi pronti per schiacciare Oh no Mannaggia Non si sa Scusate ma Cosa Come ti sei permesso Sto fatto di varare Adesso Disegno una cosa Cos'è fatto Ah Adesso disegno una cosa bellissima Allora Come faccio però Perché sto Sto cercando Non ti permesso Allora Praticamente Dovrebbe essere così Ok Poi dopo Circa Così Ok Questo Questo sei te Io Cos'è Un blob Che è Allora È un animale Possiamo dire che è un animale marino Un po' più in carne Ok Ma cos'è Non sto capendo Gabri tu dovresti capire Che questa cosa Esiste dagli inizi No Dai Forza Concentrati Non sto capendo Eh sì Allora Per farti capire meglio Posso disegnare una cosa di questo tipo qua Perché così Capito Cioè per forza puoi capire Quello che Allora Non sto capendo Allora Sei tu ma Sei tu ma c'è un altro nome In cui io ti chiamavo Che però sei rimasto sempre In quel nome Ho capito 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 Però purtroppo gli altri Non possono capire Eh io non posso capire No 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 Dai No Non riesco a scrivere Ho terminato prima io Ehi 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 Zitti tutti Stiamo facendo un casino della madonna Ma siete impazziti Cioè nel senso siete in calore Cioè siete Siete Volete tutti quanti Ma poi nonno ti puoi mutare un attimo Perché si sente per tutto Per tutto il video Mi offendo Ok Fallo in silenzio però Allora Vediamo un attimo cosa sta disegnando questo Chi è che sta disegnando Ah giusto scolapasta Allora scolapasta Eh sì scolapasta Allora questo qua sarebbe un albero no Non mi piace perché Già fa schifo Eh non so come disegnare Vabbè Vedo che questo è un albero Questo dovrebbe Ah ho capito io No aspetta un attimo Però non Non è detto giusto Cioè nel senso Cos'è Allora Dammi un solo indizio È un gioco giusto Sì Ok allora possiamo indovinare Allora circa 120 dai Ecco ora Ecco adesso No Cosa No Ha indovinato Lui No dai Cos'è Ah Dai Io non so No Cos'è Gabri cos'è Eh cos'è Ha indovinato Sasso Sasso ha indovinato Io sono scioccato completamente Dai è facile Non è facile Sei Cioè Ah Madonna Io sono dietro un albero Dai Non ci posso credere No scherzo Cioè io Ma infatti non si capisco Gabri Ti devi proprio vergognare Di questa cosa Però l'ha capito No allora Non so perché Ma in effetti è vero L'ha capito Non si sa come mai Non si sa come mai Eh vedi quindi Ti disegno bene Dennis No Ho capito Ho capito cos'è Ho già capito Dai cos'è Già io mi so pure Allora prima di tutto Concentrati sul parlare Tu perché tu ti stai concentrando Sulle altre cose Va bene va bene va bene Allora vediamo un attimo Ecco infatti Cosa sono questi rumori Scusate Cosa sono questi rumori Allora mi dovete far sgolare Eh Mi dovete far sgolare Temo di essere io Temo Ok allora stai mutato Ma poi che ti ha detto di smutarti a te Eh devo parlare no 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 Adesso ti muti Mannaggia No Stai un menevato No 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 Non ce n'è bisogno No allora Non ce n'è bisogno Tu dici a me che non ce n'è bisogno Schifoso No 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 Allora io mi sono pentito di portare Scribo il punto io Ma come? Se allora se questo video va bene Lo continuiamo a portare ma Lo portiamo Io sono sicuro Sono certo che a questo punto Infatti Mamma mia Che bel grande video comunque A questo punto non ci sarà più nessuno In questo bellissimo video Che è arrivato a circa Al minutaggio di circa 11 minuti Cos'è questa roba? Cosa dovrebbe essere? Ma cos'è ragazzi? Cosa sta? Comunque sono rimasto da solo Bello comunque Mi piace Ah Non posso parlare eh beh Infatti stai detto Ho capito Ho capito Ho capito Allora Non puoi Non puoi No Abbiamo già indovinato Io sasso Fuori Fuori tutti e due Tutti e due Tutti Allora chi vi ha detto di indovinare? Eh Chi vi ha detto? Fattavamo già Sono io posto schifoso Sono io Da quando in qua Eh Succede una cosa del genere Cioè Allora io adesso Vi faccio Stai zitto Non dire questo no a caso Primo Allora Qua Praticamente Cosa succede? Allora Cos'è? Qua c'è un colore State Allora Ascoltate bene Qua c'è un colore Qua ovviamente c'è un altro colore Giustamente No È molto importante Ci sono dei colori No I colori sono fondamentali Per questa Modalità Allora Praticamente cosa succede? Qua Ah ho capito forse C'è una cosa Un po' Vabbè Io la disegno un po' così Perché chiaramente È un po' Ok Sì ho capito Capito Capite? Ecco qua Allora praticamente Questa qua È tutta pazza No? È tutta quanta pazza Si sa che le streghe su minecraft Hanno un po' Un nasone lungo Eh no Eh no Ho detto una cosa Che non dovevo dire Ma vabbè Eh no infatti Guardate Ma è che sono stato bravo Però mi piace molto Devo dire Ma non è male A quali secondi Possiamo indovinare? Aspettate Devo ancora finire Ok Va bene Va bene Questa dovrebbe essere Cos'è? È una croce volgare Dai 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 Indovinate prima che Che vada male Ok Bene Perfetto Ok Allora Sono contento Che tutti Abbiate indovinato Hai visto Molto bene Scolapasta Sta scegliendo Cosa sarà scegliendo Scolapasta Speriamo che scelga Qualcosa di bello Altrimenti Purtroppo Dunis potrà Decidere Di denunciarlo Non so perché Allora Allora Scusa 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 Come devi parlare Tu nei video Scolapasta Bene Bene Allora Stai zitto Perché non ho ancora finito Con te Va bene Scusa Se tu fai Allora Come fa Posso fare Ti sembra parlare Stavo pensando Come disegnare Però ho sbagliato Se non stai zitto Ti caccio fuori Allora Scusa Ti sembra Che parlando Ti sembra Che stavi parlando Bene Prima Facendo allora Eccetera Ok Quindi come devi parlare Da ora in poi Bene E com'è che parli bene Dimmi un po' Eh non facendo così Ok Quindi parlando E articolando bene Le parole Giusto Gabri Va bene Va bene Bene Perfetto Nonno Dimmi un po' tu Una cosa Che vuoi dirci Perché secondo me Non lo so Allora Prima di scolapasta No Cioè mi stava già piacendo Per il colore arancione Ma assolutamente no Quindi Eh lo so Adesso ti puoi smutare E dire Quello che ne pensi tu Della maleducazione Di questo ragazzo Perché veramente Io schifo Eh dimmi Cioè io Penso che Che scolapasta Sia una persona brava Eh So dalla sua parte Tim scolapasta Hai visto Denis È scioccato È scioccato Adesso Tutti fu Adesso tutti fu Tim scolapasta A parte Sassofrasso Allora tu stai zitto Tutti muo Adesso io lo tolgo Proprio Ma lo tolgo Mannaggia Allora io Non sono più amico di nonno Basta Cioè di nonno Ma no Come nonno Poi Gabri Già me ne vado Beh fai bene Poi Gabri cosa fa Gabri va in In prigione Però dove No Nello scantinato Ma come Esatto E ho risolto tutto Bene Cosa dovrebbe essere Questa roba Scusami Gabri Scusa Allora Tu è da meggiore Che stai disegnando Ma ti sbreghi Oh Ma porca miseria Cos'è sta roba Allora Tipo allora Qui c'è scritto il nome No Qua Cosa hai fatto di nuovo Scritto Dunis Qua no E quindi Cosa Sono dei video Ok dai Indoviniamo Perché hanno capito tutti Scusami Tu hai di nuovo fatto Un'altra cosa Di nuovo La stessa cosa Cosa ho fatto La stessa cosa di prima L'hai fatto Non me ne sono accorto adesso Eh Te non dovresti accorgere Gabri o no Eh Non so Eh Stai attento allora Va bene Va bene Va bene Bravo Sasso Bravo Lui è l'unico bravo Di questa partita Oggi Non si sa come mai Perché voi due Mi provocate Io veramente Non ci ho provasito Cosa dovrebbe essere Questa cosa Io ho paura Caro Cioè anche io ho paura Comunque un pochino Perché sinceramente Non so cosa aspetta Cos'è Beh insomma Potrebbe essere Poi scusa ma Ah forse ho capito Il nero ti sembra un bel colore No dimmi perché Nel senso È tutto depresso È vero Modifica immediatamente Metti un colore più bello Immediatamente perché Sai come è un po' triste Se no altrimenti Caro Sasso È un pochino triste Ma cos'è Non so Cioè In realtà no Non ho capito No infatti Cioè Non è Non è Dunis No 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 impossibile infatti No infatti cos'è Poi cos'è quel coso lì Ma infatti cosa potrebbe essere Non sto capendo Cioè Allora Ah Senti facciamo così Scrivi la parola E scripiamo questo ram Perché se no Non posso Cioè Ovviamente Io devo essere il primo Non vi permettete Cos'è Ah angelo Ma dai Ma come Però era stato bravo Cosa ha fatto Adesso No 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 Nonnino Vote kick Forza tutti quanti Vote kick Via 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 Vote che Forza 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 Tutti quanti Fate Io ho fatto Io ho fatto Ok bene Vote kick Nonno Ok bene Urlo Adesso urlo Questo è quando succede Questo è quello che succede Non c'è urlo Stai dire Ok Questo è quello che succede Quando si cerca di F Dunis Che non si può dire quella parola Però insomma Allora Posso disegnare una cosa Però questo Allora Gabri Ti insegno Dimmi dimmi Ti insegno Cosa ho fatto Vabbè ho scelto una parola Ok bene Allora praticamente Prima di tutto Assolutamente Ma non ho cambiato nome Cosa come si è messo Nonnino Irri Irri perché irritato Secondo me No Allora praticamente Cosa c'è qua Qua c'è una persona Un po' così No Tutta quanta Credo che sono io No Perché ero blu Cioè pensavo che ero io Stai zitto Praticamente Questa cosa cosa dovrebbe essere Dovrebbe essere un po' Un blocco Un blocco Vabbè Vabbè avete capito Non sto capendo Stai zitto Che non puoi ancora capire Idiota Io ti 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 Ma io Io oggi veramente No ragazzi Io oggi Mi state facendo arrabbiare No 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 Mi state facendo arrabbiare Tutti quanti Allora Quindi Sto facendo una cosa adesso Ok Una cosa molto bella Tutto Ok Tutto quanto Tutto questo Forse ho capito Fate finta che Fate finta che è colorato bene Ok Allora poi Cos'altro Ci può essere qua Mannaggia che non so Scegliere i pennelli Allora poi Questa è una persona Che però si Ok Poi qua insomma Può continuare Qua c'è magari un po' D'acqua no Ovviamente Un po' Un po' D'acqua no Cos'è Che acqua è Ok Indovinate forza Siamo Sì Ma io non ho capito nulla Cos'è questa cosa qua Nonno Dimmi un po' È marrone No è un blocco d'erba Di minecraft E così Chi è quello dietro È una persona Qui ne nascondino Si sta nascondendo Veloce Ah Sincero Eh hai visto C'è l'ultimo uffa Eh chissà perché Allora dai forza Nonno Nino sta di nuovo Scegliendo Cerca di non farti Cerca di non farti Di voti Ma cosa sta succedendo Ah ok Ok niente Stavo sentendo già Cos'è successo Non lo so Questo è un blocco Giusto Dovrebbe essere un blocco No Cioè penso che sia un blocco Di minecraft È tipo cerchio Tipo Un po' Un blocco un po' cerchioso Vabbè Vabbè finito Ah ok È di nuovo minecraft Scusa Eh sì Vabbè dai indoviniamo Ok vabbè ragazzi È stato bello fare questo video Ma come è già finito Abbiamo finito Abbiamo finito Dopo abbiamo Qualche chiacchiere Qualche discorsetto da fare Io e voi Però intanto direi che abbiamo finito Quindi Iscrivetevi al canale Lasciate like Fate tutte quelle belle cose Che ci sono da fare No Perché chiaramente Sono molto belle da fare No chiaramente Poi commentate con Chi è stato il peggiore Di questa partita Quello che ha fatto Più arrabbiare Dunis Oddio Quello che Più ha fatto arrabbiare Dunis Chi è stato Ditemelo Perché L'avrete Qualcuno Allora Qualcuno l'avrà capito Se no tirate di indovinare Quindi niente Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao